Allora Gassem, assieme a voi altri, a Vialter, buongiorno agli amici di Ciocomo, buongiorno a tutti voi, siamo in centro di Como quest'oggi e eccoci qua dove siamo questa mattina per augurarvi il buongiorno assieme alla nostra Shura Ornea. Dov'è che sei? Fatto vedere. Buongiorno, come su un chiancamiele, no, mercoledì, del Marco siamo in compagnia. Sta fermo. Stavamo un po' d'allegria. Molto bene, in mezzo a Piazza San Fedele alle 7 a parlare e a cantare c'è solo la Shura Ornella. Buongiorno a tutti, allora grazie di essere qua con noi in questa mattinata sotto la bellissima chiesa di San Fedele. Perché abbiamo scelto Piazza San Fedele? Shura Ornella, intanto buongiorno a lei, Enrico, ci saluta, è il primissimo a salutarci, ma immagino ne arriveranno altri come Simonetta, buongiorno, come Anna e come Dario, buongiorno, buongiorno anche ad Anna Lisa, buongiorno, grazie, Sofì, buongiorno, Graziella, mi dica, Shura Ornella. Allora, abbiamo scelto... No, parla in dialetto. Un attimo, anche io devo caldurare. Teresa, buongiorno, buongiorno, buongiorno Anna Lisa, noi cantiamo in macchina, dice, ma guarda che bellissima sta canzone, rifammela. Eh, boh, aspetta, eh. Buongiorno, come su un chianca miele minga mercudì, del marco semi in compagnia, per davo un po' d'allegria. Va bene. Le persone ci stanno guardando. Eh, ci sta guardando anche quelle signore che sono al bar, ti stanno guardando. Anche la signora sopra. Allora, abbiamo scelto, abbiamo scelto San Fedele perché, vi ricordate, siamo andati al Duomo, c'era la rana. La rana l'abbiamo trovata. Esatto. Nella fontana del Drago. Ma a proposito di Drago, dovete sapere che il portale della Basilica di San Fedele, ma che si affaccia sulla via Vittorio Emanuele, si chiama Portale del Drago. È vero. Hai visto? Allora, Silvia, Marinella, Paola, buongiorno, Lidia, Salvatrice, Clara, Rossella, Anna, Luce, Ornella, Rita, Corrado. C'è una mia omonima. Eh, tantissimi. Lidia, buongiorno. Saluto, dice Isa, ciao Isa, buongiorno a te, va al lavoro, buongiorno a Rosi, buongiorno a Dalbate. Tanti che anche oggi sono con noi. Paola, buongiorno. Bene, io... Io fa scappare una donna che l'era alla finestra, sentiva cantare andata via. Eh, buongiorno, buongiorno, Asciura Ornella, Ines, buongiorno. Ma Enrico, a me pare che sia buona la connessione. No, mi diceva connessione. Boh, a me pare buona. Com'è che sei contenta stamattina, dice Carmen. Damiano, buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno. No, allora, siamo qui non per parlarvi della Basilica, di cui vi parleremo magari un'altra volta, ma per parlarvi di questa piazza. Ti, Marco, tu sapevi che anche la piazza Chile era un mercato e il grano? No, sapevi no. Ecco, in sci, ti imparano quel coso. Bene. Allora, vedete tutti questi negozi? Ok. Sì, ah, i vedum, vensciachì, vensciachì. Allora, solo alcuni sono... No, Isa, il calendario non glielo ho ancora dato, glielo do dopo. Il calendario? No, un calendario che mi ha dato da darti. Ogni tanto salta, mi dice, ah, peccato. Eh, vabbè. Non so, salta, salta, salta. Allora, basta saperlo che saltiamo anche noi. No, no, sto fermo. Allora, dicevo, alcuni di questi negozi... Mi devo abbassare? No, no, va, 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 va. Alcuni di questi negozi sono storici. Verga. Il verga. Si può dire? Sì, sì, sapodì. Il moglie, il trombetta. E se guardate bene, ci sono i cognomi dei titolari o dei proprietari, cosa che invece nel negozio di adesso difficilmente troviamo. Verena è cresciuta qui, in sta piazza. Allora. Ciao, Ricchi. Allora, chi è cresciuto qua in questa piazza si ricorderà magari che al posto della pellicceria c'era una valigeria e mi hanno detto che era il ritrovo dei partigiani nei tempi di guerra. Sì, ma non dirlo forte. Esatto. Poi, dalla parte, ad esempio, dove c'è quel negozio di profumeria, allora c'era un macellaio che si chiamava Pelandini. Ah, poi vicino tra il moglie e il trombetta c'era un marzorati. Il marzorati era un druguet, un alimentare, il vendeva un puticose. Ma la cosa simpatica che mi ha raccontato Rita, e devo ringraziare anche Luisa della famiglia Comasca, bravissime, perché se non ci fossero loro non lo so, brava Luisa, al posto del bar che c'è nell'angolo, c'era un tabaccaio e allora la Rita mi raccontava che i bambini andavano volentieri da questo tabaccaio perché vendeva gli scacciacani, gli scacciacani, gli scipudevano comprare e fai sparare. Allora, salutiamo Mimma, Elisa, buongiorno a Tiziano, a Ricchi, che ci scrive da Venezia, Calogero, Carmen, dice come Sciura, sei contentissima, Daniele, il nostro amico Daniele, buongiorno, Silvia, buongiorno, Gianna, Isa, buongiorno, Ornella, Loredana. Elena, Annalisa, buongiorno, hanno apprezzato tantissimo la tua canzone, assolutamente. C'era anche un'altra storia, la signora si sta riaffacciando ma ha pensato di chiudere le persone. Ah, c'era una signora qua che forse ci ha sentito, buongiorno Cristina, buongiorno Laura, sì perché alle 7.20 del mattino in piazza in effetti ci siamo solo noi e te che canti, che ci porti il buongiorno, porti il buongiorno ai nostri amici, a Cristina, a Patrizia, buongiorno, buongiorno a voi, grazie, grazie come sempre di essere con noi, il caffè ce lo offre la nostra Lidia, Stefano, buongiorno. Allora, parlavamo dei negozi, ma gente vi ricordate quando si andava dai negozi, che c'erano il Marzorati, il signore che faceva il macellaio, Pelandini, ti andava a mingata, ti diceva, andava giù un attimo dal Marzorati a te in quei corsi. Il negozi, il titolare era il negozio stesso, allora ti andava giù di dire, wey sure Marzorati, al madà, un po' di farina, un po' di pane, eccetera. Adesso non lo fai più, tu entri in un negozio e non conosci, non c'è più quella relazione, poi soprattutto si andava giù di dire, wey sure Marzorati, sure Marzorati, non è che dicevi, wey Marzorati, quello più milanese, più i milanesi non mettono sure e tengono solo il cognome. Per noi era, esatto, infatti noi dicevano, wey Marzorati, allora com'è che te stai? Allora, Paola da Ferrara, poi Nico da Barletta, e Dora, buongiorno, Isa, Andrea, anche se andiamo da Isa ce l'offre anche lei il caffè, poi Clara ha detto che siamo molto pimpanti. Siamo tutti così dopo. Allora, ma lì in sci dormono ancora tutti, ci dice Silvana. Ornella, fai una bella cantada che tal fe le va se. Allora, cos'è che devo far vedere? Guardate tutte le finestre che sono molto pimpanti. Eh, ma beh, ho capito, ma quest'ora, buongiorno a Lara, buongiorno. Questo che ha chiesto anche questo. Facciamo vedere le finestre, ok, di Piazza San Fedele. Però un po' di lunghe che va a lavorare. Qualcuno c'è, siamo qui questa mattina. Buongiorno ad Antonia, Sciura Ornella, lei è un spettacolo. Ma io o la con la? No, tu, ha detto che lei andava in drugheria dal Cucchi, Basin. Cucchi è giù dall'altra parte. Benissimo. Va bene, allora, cari amici, il risveglio di oggi, avete visto, ieri non l'abbiamo fatto, ma oggi l'abbiamo recuperato alla grandissima, con la Sciura Ornella, Mimma, Alida, buongiorno. Ci sono stato, bella piazzetta, Annalisa risponde alla domanda di Francesco. Un'altra cosa, ma che basto pavimenti, porca miseria, le belle vecchie, le belle mafie andate con i tacchi. Ma andare con i tacchi qui, su questo pavimento, Dado, Enza, buongiorno, Damiano, buondì. È brutto andare, vedete? Io non ho i tacchi, però. Puoi vedere? Puoi vedere? Se vai dentro con i tacchi, dentro qua, tu vengi a più fuori. E tutti vogliono andare lì, ma... Eh sì, in effetti è più facile camminare qua, che... Sì, tutti camminano lì e c'è la fila. Allora, hanno già risposto anche alla domanda dei buoni pub di Arnold's. Ah sì, che cos'era la domanda? Non l'ho persa, no, l'ho persa, devo dirtilo io, mi è scappata. Ah, eccola qua, aspetta. Dunque, in che anno è nata la canzone Pulenta e Galina Freggia di Davide Vandesfros. Ah, va bene. Ma è facile per chi... Va in giro qui sciavatta, dice. Un quasi, guarda, quasi. No, non sono sciavatta. Ciao Pasquale, buongiorno, interessante. Un pedagno. Pedagno, Enzo, buongiorno anche a Dado, Annalisa, Ricchi, buongiorno, Lara, bene, abbiamo già salutato un po' tutti. Che altro ci rimane da dire? Allora, ci ritroviamo ancora la prossima volta perché ho trovato una chicca bellissima. Piazza storica, dice Dado, questa è una piazza storicissima del centro... Sul campanile della Basilica di San Fedele, ma... Ecco, Maria dice che non ci sono più i negozi e la merceria di una volta. Non ci sono più, peccato, vero? Ah, marceria, io però invece vado sempre nella mia merceria e allora lì sì, e io... Ehi, Gabriella, allora... C'era un altro, esatto, c'era un altro rapporto. Va bene, allora, piazza San Fedele dove oggi vi abbiamo dato il buongiorno. Cari amici, anche Maria Rita, salutiamo Isa che va al lavoro. Un saluto a te, un saluto ad Andreina, un saluto a Cristina. Buongiorno alla Sciurornella. Grazie Rita, grazie a tutti. Femme du Pasque e poi andiamo diretti in radio. Lei un po' un'impresa camminà sul Porfide, dice Antonio. Questo qua sì. E in effetti sì. Pensate quanti piedi hanno visto. Mamma mia. Poverini. Mamma mia. Allora, vincono Mimma e Damiano, dice Francesco. Poi Richi, buongiorno. Attilio, la sua parrocchia che è questa qui, quindi Attilio originario di San Fedele, anche lui. Clara, buongiorno, buona giornata anche a te, cara. Clara, buongiorno, troppo lungo, non riesco a leggere, scrive troppe cose in dialetto. È tutto. Aspetta, senti che suonano le campane. Adesso qua anche a San Fedele, alle sette e mezza esatte. Rita dice che sotto i portici c'era una discoteca. Lì, quei portici lì? Non lo so. Una discoteca qua? Ciao, Damiano, grazie. Ecco, la campana. Ecco, senti. E come dice mio nipote, den, 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 den. Allora. Senchè senti un den anche a noi, come tu scrivi, va. Ricorda il Marzorati. Ciao, Silvana. Bello stamattina. Marco, passa in via Damo del Pero. Ah, sì, va bene. Eh, no, lo so, ci fermiamo qui, Damiano. Ci fermiamo qui. Ciao, Mimma. Grazie, Clara. Bella. Allora. Allora. Danno a Messa. Aspetta. Va a Messa, sai. Ciao, Bel. Allora del... Ah, è all'elura del Dano a Messa. All'elura del Messa. Ciao, Richi. Lori, buongiorno a Tiglio. Sì, sotto le scale dell'Aida. Ah, c'era una discoteca qui sotto l'Aida. Ah, io sai che non lo sapevo? Ciao, Damiano. Buongiorno. Anna-Lisa. Buongiorno. Mi pare si chiamasse la Mela. Ma no, qui la Mela c'era. Sì, hai ragione. È vero, è vero, è vero, è vero. Non sono mai andata. Sono mai andata lì. Salutissimi da Miami. Se non sbaglio. Oh, da Miami. Rossana. Ah, ma... Buongiorno, Rossana. Grazie. Rita, buongiorno a te. E poi saluto a Tiglio. Ah, quindi ci hanno detto che qui sotto... Se non sbaglio si andava alla domenica dopo di Snao. Sì, dopo di Snao, ovviamente. Esatto. La Mela. Ah, sì, allora la Mela. Portici a sinistra, ci dice. Sì, sì, sì. Quindi qui c'era la discoteca. Va bene, ok. Ci salutiamo da qui, dove adesso c'è la pasticceria Aida. No, Rito dice Boccaccio. No, Boccaccio. Va bene, è tutto. Noi ci fermiamo. Grazie, buongiorno a tutti da Piazza San Fedele con la nostra super. Ciao, ragazzi. Saluta bene te. Ci vediamo mercoledì. Sa vedo un mercoledì in diretta. Ecco, ancora mercoledì prossimo sarà con noi in diretta. Intanto oggi vi ha portato questa ventata di allegria. Buongiorno a Fabiola, grazie a te. E con questa canzone che ci ha fatto prima. Buongiorno, come sono chi anche lì. Anche se le minga mercoledì. Bellissimo. È diventata una star. Grazie a tutti, buongiorno. Sì, c'era una ragazza sotto i portici dell'Ubic, ma non era la mela che era vicino alla funicolare. Infatti non era la mela. Quindi qui c'era una discoteca, abbiamo capito, io non lo sapevo. Bene, vedi quante cose. Hai visto, te capi. Anch'io in diretta, Clara. Ciao. Buongiorno a tutti, grazie. Buon mercoledì. Buon giovedì, oggi è giovedì. Ciao Ricky, buongiorno a te da Venezia.